Signori, grazie a tutti di essere venuti. Bonjour, sigaretta? Lo sai che non fumo in servizio? Fai bene perché fumare fa malissimo. Caramellina? Grazie. È buona, eh? Questa qui fa tutto bene ai polmoni. Buona, sì. Ho detto che sono bulgara, mica scema. Dai, vieni qua, parliamo. Stanno bene? Così lo capisco meglio, è l'italiano. È vero che i sagittari sono persone piene d'emozione? È vero. Io stessa ne sono piena. Ma lei non è una provocatoria, è una particolare in generale nella vita. Felice di conoscerti. Mi hanno scritto i tuoi, sai? Allo zio è venuto il mal d'Africa, non vuole tornare più. Dov'è il portafoglio? Il portafoglio? Non lo uso. Spogliati. Cosa? Spogliati. Anche i pantaloni, le scarpe, tutto. Io farò l'ispettrice. E per noi comincerà una vita nuova, bellissima. Bellissima. Ma non capite? Caterina Evanovna la tisi e presto morirà. No. Dio non lo permetterà. Sono fatto così. Che ci posso fare? Non è colpa mia. Eh? Però io i soldi non te li ho presi. Guarda, io veramente mai potrei fare una cosa... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.